Quando tutto sembra andare per il verso sbagliato e ci sentiamo abbattuti, demoralizzati, sconfitti, ricordiamoci che la vita è imprevedibile e che in un istante tutto può cambiare. C'è stata una gara in particolare che mi è rimasta impressa nella mente. Una gara di endurance equipaggi, la 200 miglia del Mugello, corsa in condizioni critiche e che ho vissuto in prima persona da bordo pista e in cui è successo di tutto. È una storia meravigliosa e molto intensa che ho deciso di raccontarvi in questo video. Novembre 2016. Mi trovo nel Tempio della Velocità in una nera giornata d'autunno. Soffocato da grosse nere nubi, il sole pare ormai un ricordo lontano. 24 equipaggi, pronti a percorrere 200 lunghe miglia, ancora non sanno ciò che li attende. La natura intanto scatena il suo impeto in quella che si rivelò poi essere una delle piogge più intense degli ultimi anni. Nei box si respira tensione, paura, timore. Difficile fare previsioni, difficile fare strategie. Una nave è sicura nel porto, ma non è per questo che le navi sono fatte. Si parte. 62 lunghi giri. Non vinceranno i più forti. Vinceranno coloro che sapranno trovare il giusto equilibrio tra follia e prudenza. Alcuni indomiti volano veloci, a pelo d'acqua. Altri più cauti indugiano, ma la sciagura è in agguato. Si contano i primi caduti. La natura miete le prime vittime, mentre la battaglia è imperversa sotto l'impetuosa furia degli elementi. Per vincere bisogna rischiare. Bisogna osare. Bisogna trovare il limite senza superarlo. Ma laddove il limite cambia ad ogni curva, è come giocare alla roulette russa. La davanti si vola. I primi quattro segnano tempi da capogiro. Ma ogni curva è come un salto nel vuoto. Dov'è il limite? Come si può trovarlo? Dov'è il confine tra la gloria e l'oblio? Dopo soli sette giri, intento cercare il limite. Luca Salvadori, l'autore della Pole Position, cade. Spunta il sole. Un effimero barlume di luce che scalda il cuore e riporta speranza. L'unione degli elementi crea spettacolari giochi di luce e colori che rendono unico questo scorcio di pace. Non ho parole per descrivere cosa si è provato in quei momenti. Ma il sole inganna. La pista è ancora insigniosa e la marra, il più veloce in pista, dopo aver preso il leader Manfredi, cade. Così come si è raffacciato timidamente, silenzioso il sole se ne va e con esso la speranza e il depore lasciano spazio al timore e alla fredda oscurità. I caduti si rialzano, i combattenti esausti cedono il posto ai compagni, mentre sul campo imperversa la battaglia. Torna la pioggia e la natura scatena nuovamente la sua ira. Ricominciano a cadere come mosche, mentre la gara prosegue in perterrita. Alla costante ricerca del limite, dentro il casco, l'eterno dilemma. Quando spingere e quando mollare? Quando 58 giri ormai sono trascorsi e ne mancano 4 alla fine, accade l'impensabile. Il leader della corsa, Clementi, cade. Un intero weekend buttato in ghiaia a un passo dal successo. Il secondo, Bono, ora ha tra le mani la vittoria. Sembra fatta, ma a due giri dalla fine, cade anche lui. Chi l'avrebbe mai detto? Clementi, caduto due giri prima, si rialza, passa sotto il traguardo e vince. Il vincitore è caduto. Il secondo è caduto. Il terzo è caduto. E il quarto pure. La vita è fatta di sfide e può capitare di cadere. L'importante è rialzarsi sempre, perché fino alla fine non è mai detta l'ultima parola. Un mio amico diceva Le gare finiscono sotto la bandiera a scacchi. Qualunque cosa tu faccia nella vita, la speranza è sempre l'ultima a morire. E finché non sarà morta, non smettere mai di lottare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.